Giornalista di Avvenire, collaboratrice di altre testate giornalistiche nazionali, radio e televisione, Marto Ottaviani per molti anni è stato l'unico rappresentante del giornalismo italiano ad essere inviato con sede in Turchia, diventando così uno dei maggiori esperti in Italia di cose turche. A questo paese ha dedicato due saggi e un terzo libro su una biografia sul Rais Erdogan. L'altra area di specializzazione di Marta è la Russia e nei giorni scorsi è proprio uscito questo libro per le edizioni Brigate Russe, la guerra occulta del Cremlino tra troll e hacker. Con la sua grande professionalità e una lucidità analitica davvero importante e profonda, Marta Ottaviani ci dà un ritratto molto interessante, molto preciso di una parte di mondo, di un paese che hanno un'importanza strategica, politica ed economica fondamentali per gli equilibri mondiali ed europei in particolare. Se volete capire meglio questa parte di mondo, credo che questo libro di Marta Ottaviani sia la lettura migliore da fare.